A Genova per Sampdoria Palermo, Enzo Melillo. Temperatura mite qui al Ferraris, ma cielo che si va rannuvolando e riflettori accesi per una partita da non sbagliare, quella di oggi con il Palermo al Ferraris per una Sampdoria riduce da quattro sconfitte consecutive. La società blucerchiata ha confermato la fiducia a Giampaolo con cui ha avviato un progetto di ampio respiro per valorizzare i giovani, ma è chiaro che ora serve una svolta, una vittoria. I blucerchiati quartultimi con sei punti in altre tante giornate. Bisogna vincere dopo le battute d'arresto con Roma, Milan, Bologna e Cagliari. Ma la Sampdoria dovrà fare attenzione ai rosanero perché la squadra di De Zerbi in casa ha perso tre partite su tre, l'ultima con la Juventus su autorete, ma ha ottenuto tutti i suoi cinque punti in trasferta, vincendo a Bergamo e pareggiando con Inter e Crotone. Veniamo alle formazioni, la Samp si schiera con un 4-3-1-2 con Viviano fra i pali, l'inifesa sala al rientro dall'infortunio, Silvestre, Scriniare e Regini. A centrocampo a destra Barreto che ha scontato la squalifica, al centro Torreira e a sinistra Linetti con Alvarez alle spalle delle punte Muriel e Quagliarella. Pratt è pronto a subentrare a Barreto o ad Alvarez. Il Palermo si schiera con un 3-4-2-1 che vede Posavec in porta, Cionec, Goldaniga e González nel pacchetto arretrato, Rispoli, Gazzi, Bruno Enrique ha gli esami in mediana. In attacco Nestorowski supportato a destra da Diamanti e a sinistra da Iliemark, arbitra Mariani di Aprilia. Il presidente della Samp Ferrero ha deciso di non essere presente in tribuna per lanciare un segnale alla squadra. A Viviano è stato perdonato l'errore decisivo di Cagliari, costato la sconfitta ai blucerchiati, è stato applaudito fragorosamente dal pubblico quando è entrato in campo per riscaldarsi. È tutto per ora a linea allo studio. Ottavo minuto a Genova, Sampdoria, 0 Palermo, 0 Sampdoria vicinissima al vantaggio, al quinto. Sugli sviluppi di un corner, Torre di Muriel, tiro a botta sicura di Quagliarella e grande parata distinto di Posavec. E un minuto prima Muriel, ben imbeccato da Skriniar, ha fatto partire un destro dalla limite parato in tuffo dal portiere croato del Palermo. Quindi una Sampdoria che sta pressando, vuole passare in vantaggio, vuole vincere la partita dopo quattro partite consecutive. Il Palermo si difende, non riesce ancora a distendersi come vorrebbe in contropiede. Si sta anche un po' facendo spigolosa la partita, intanto riceve Quagliarella adesso dal limite. Il passaggio per l'inserimento di Barreto, Barreto in area, il pallone al centro, poi interviene, ribatte il tiro di Torreira. Il centrale Golda Nigga e poi la palla sul fondo calciata da Muriel, alta. Sampdoria ancora in avanti, una fiammata dei blucerchiati, nove minuti e undici. Sampdoria, 0 Palermo, 0 Cesena. Siamo al tredicesimo a Genova, Sampdoria, 0 Palermo, 0. Poc'anzi un tiro di Muriel in diagonale che ha dato l'illusione della rete, ha puntato il terzino Cionec ma ha concluso di poco a lato. Poco prima Iliemark è stato l'autore del primo tiro in porta del Palermo su un'azione orchestrata da Iliemark, rifinita da Diamanti. Ma il tiro era debole anche con un rimbalzo finito tra le braccia del portiere Viviano. Al Ferraris ci stiamo avvicinando alla quarantaduesimo del primo tempo, 0-0 fra Sampdoria e Palermo. Tanti errori da una parte e dall'altra, partita brutta poco fa al trentanovesimo all'esame aveva servito Iliemark che poi ha sbagliato il cross cercando di servire Nestorovski. In questo momento la Sampdoria si appresta a battere un corner con Sala, il colpo di testa di Barreto e la palla che finisce fuori, fuori di un non nulla. Con la conclusione anzi ribattuta dalla portiere, abbiamo rivisto adesso la parata, la parata in tuffo di Posavez. È veramente una prodezza del portiere mentre la Sampdoria si accinge a battere il nuovo corner al 42-30, Sampdoria 0, Palermo 0, diamo la linea Cesena. Primo tempo costellato da errori da una parte e dall'altra, da tante imprecisioni, le occasioni più limpide sono capitate però alla Sampdoria. Al quinto con Quagliarella sugli sviluppi di un corner, un tiro a botta sicura all'altezza dell'area piccola, decisivo l'intervento di Posavez. Così come è stato decisivo il portiere croato del Palermo al 42esimo, su un colpo di testa di Barreto ha messo la palla, la deviata di quel tanto che bastava per farla finire sul fondo. E proprio a tempo scaduto, durante il minuto di recupero, Muriel ha avuto un'occasionissima. Un rinvio dal fondo di Posavez è stato sporcato dalla Quagliarella, la palla è pervenuta all'attaccante colombiano che non ha angolato però abbastanza il tiro, ha tirato addosso a Posavez che comunque si è fatto trovare. Le squadre devono ancora tornare in campo, adesso diamo la linea a Cesena sul risultato di 0-0 fra Sampdoria e Palermo. Al Ferraris ci stiamo avviando al quarto minuto della ripresa, Sampdoria 0-Palermo 0, al primo minuto Ammonito-Gazzi per fallo su Linetti. Intanto la conclusione da lontano di Alvarez, il sinistro dai 20 metri, la palla che termina di poco al lato alla sinistra di Posavez. L'ammonito-Gazzi si va ad aggiungere a quelli del primo tempo, Iliemark per il Palermo e Alvarez nella Sampdoria. Sempre al primo minuto Scrimiar ha calciato molto alto al volo su una punizione battuta da Alvarez. La Sampdoria che quindi cerca di portarsi in avanti, vuole vincere, ha bisogno di vincere dopo quattro sconfitte consecutive ma finora niente da fare. Nessuno degli sforzi della Sampdoria è andato a buon fine. Quattro minuti e trentuno, Sampdoria 0-Palermo 0-Cesena. Dieci minuti e trenta a Genova, Sampdoria 0-Palermo 0. In questo momento sta entrando il bulgaro Ciocev al posto di Iliemark. Sta crescendo nella Sampdoria Muriel. Poc'anzi si è bevuto Cionec dopo un lancio lungo di Quagliarella. Tiro a botta sicura, grande respinta di Posavez. Al sesto aveva costretto Gonzales a una trattenuta per la maglietta. Stava involandosi verso la porta, Gonzales lo ha trattenuto ed è stato ammonito. Una Sampdoria quindi che sta prendendo quota. Il Palermo che è molto abbottonato cerca di ripartire in contropiede come in questo momento con Ciocev che ha appena ricevuto da Lesami. Ciocev scambia di nuovo con Lesami, il giocatore di nazionalità norvegese. Poi preferisce passare all'indietro. Ora si spegne l'azione del Palermo. Undici minuti al Terraris. 0-0 fra Sampdoria e Palermo. Cesena. Dalla quale vi parliamo Isai ha rimesso in gioco di pallone. Palermo in vantaggio, quattordicesimo, Nestorowski, Sampdoria 0, Palermo 1, a te la linea. Diciassette minuti nella ripresa, è cambiato il risultato al Ferraris. Palermo 1, Sampdoria 0, gol di Nestorowski. Al quattordicesimo il gol favorito ancora una volta da un errore decisivo di Skriniar. La palla messa al centro dalla sinistra da Lesami sembrava che potesse essere preda del centrale slovacco. Invece ha lisciato il pallone il difensore blucerchiato. La sfera è pervenuta a Nestorowski e l'attaccante macedone ha messo in rete. Dopo pochi secondi poi Giampaolo ha inserito Schick per Quagliarella. Quindi un attaccante per un altro attaccante della Repubblica Ceca. Schick, la Sampdoria adesso deve rinserrare le fila, si prospetterebbe la quinta sconfitta consecutiva. Diventerebbe davvero rovente la situazione e anche la panchina per Giampaolo, anche se la società gli ha ufficialmente confermato la fiducia. Ricordiamo però che il presidente Ferrero, in polemica con la squadra, oggi non è in tribuna. Siamo sul risultato di 1-0 per il Palermo a Genova, diciottesimo minuto linea a Cesena. Ventotto minuti qui a Genova, Sampdoria 0, Palermo 1 per il gol messo a semio alla quattordicesimo da Nestorowski. Intanto ora la Sampdoria in avanti però perde palla il giocatore Alvarez. Muriel ha reclamato un rigore al ventiseiesimo per un presunto tocco di mano di Cionec che lo stava marcando. Nel Palermo ha fatto il suo ingresso Iaialo al posto di Bruno Enrique. Da segnalare un'occasione per la Sampdoria. Schick che non è riuscito a trovare la deviazione vincente in ascivolata su assist di Muriel. Ha provato a chiudere con il destro mentre sarebbe stato più opportuno con il sinistro, ma non è un mancino evidentemente Schick. La Sampdoria quindi che immagina gioco addirittura crampi per Muriel che sta svariando su tutto il fronte offensivo spende molto ma non è ancora riuscita a trovare il bandolo della Matassa. 29 minuti della ripresa, Sampdoria 0, Palermo 1, Cesena. 33 minuti e mezzo a Genova, Sampdoria 0, Palermo 1. Gol di Nestorowski alla quarto d'ora della ripresa. Ora è Diamanti che cerca di innescare Rispoli, un ex Sampdoriano. Diamanti che dopo che la sua squadra è passata in vantaggio gioca molto arretrato, riesce ad avanzare solo quando il Palermo cerca sporadici contropiede. È interessante vedere una squadra che si difende praticamente in dieci con il solo Nestorowski a presidiare la metà campo avversaria. Ora il gioco è fermo per un fallo su Alvarez commesso da Rispoli. 34 minuti della ripresa, Sampdoria 0, Palermo 1, Cesena. Ancora c'è il pareggio della Sampdoria, 49esimo. Ha segnato il pareggio della Sampdoria che va a raccogliere l'applauso del pubblico. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes con una gran bordata dal limite quando stava per scadere il tempo e il Palermo era in dieci per la doppia ammunizione e l'espulsione di Gazzi. Pareggio della Sampdoria con Bruno Fernandes a te la linea. D'accordo soltanto per il parziale. Qui si gioca ancora il cinquantesimo minuto. Bologna 0, Genoa 1, dunque Genova. Lillo, siamo in pieno tripudio qui a Genova. Bruno Fernandes che riceve l'applauso. La Sampdoria ormai non ci sperava più. Era stata battuta una punizione poi sugli sviluppi. La palla è arrivata a Fernandes. Decisa la legnata dal limite dell'aria. La palla nel sette. Con un'occasione di poc'anzi di Skriniar che cercava di riscattarsi dall'errore. Intanto l'arbitro fischia. Alla fine Sampdoria 1, Palermo 1 a te la linea. Il pareggio finale invece dei Marassi. L'1-1 tra Sampdoria e Palermo. 1 a 1 alla fine della partita fra Sampdoria e Palermo. Al vantaggio siglato da Nestorowski al quattordicesimo del secondo tempo ha risposto al quarto minuto di recupero Bruno Fernandes. Una gran bordata dal limite dell'aria. Quando la Sampdoria ormai non ci sperava più e attaccava con la forza della disperazione. Il Palermo era passato in vantaggio favorito da un errore di Skriniar. Il terzo errore decisivo dopo quelli compiuti con Milan e Roma. Una palla messa al centro dalla sinistra da Alesami. Il liscio del centrale blucerchiato. La palla che è arrivata all'attaccante macedone, Nestorowski. E il vantaggio del Palermo. Poi la Sampdoria ha attaccato con la forza della disperazione. Ha avuto anche delle buone occasioni. In più di un'occasione è stato decisivo il portiere del Palermo Posavec. La squadra siciliana è rimasta in dieci in pieno recupero. Gazzi per doppia munizione per un fallo su Schick. La Sampdoria si è catapultata in avanti e ha trovato un pareggio che interrompe una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. Ricordiamo con Roma, Milan, Bologna e Cagliari. La Sampdoria aveva bisogno di vincere. Ma anche un pareggio a questo punto era importante per interrompere una striscia negativa. 1-1 fra Sampdoria e Palermo. A te la linea.